Dopo i primi quattro appuntamenti dell'edizione 2022 del trofeo A112 Abarth Yokohama, il cammino approda a Biella con il quinto round della serie, che si disputerà sabato prossimo sulle strade dell'undicesimo rally l'Anastorico. 17 gli equipaggi che hanno risposto all'appello, vissando di fatto il numero di partecipanti dell'edizione scorsa. 8 le prove speciali in programma, tutte nella giornata di sabato 18 giugno per 107,52 km cronometrati. Partenza ed arrivo presso il centro commerciale Gli Orsi a Biella. Le 8 prove speciali sono la Campore, la Baltigati, la Romanina e la Ronco, tutte da ripetere due volte. Ad aprire la sfida nella prima gara del secondo girone saranno gli attuali capoclassifica, i toscani Marcogino Dallavo e Manuel Piras, seguiti dai corregionali Ivo Droandi e Massimo Acciai. Tallonati da Marco Gentile e Vincenzo Torricelli, che li seguono al terzo posto della classifica generale. Toccherà poi ai Veneti Giuseppe Cazziolato e Claudio Piazza e subito dopo un altro equipaggio proveniente dalla Toscana, quello composto da Stefano Bartoloni e Giorgio Leporati. Risponderà al richiamo della gara di casa Filippo Fiora, che cercherà il tris di vittorie affiancato da Luca Pieri. Tra i tanti pretendenti a successo, anche Massimo Gaglione in coppia con Luigi Cavagnetto e, dopo diversi anni, Maurizio Cocchi si rispolvera la sua A112 e si rimette in gioco nel trofeo, insieme a Milva Manganone. A Biella timbraranno il cartellino anche Cristian Benedetto con Patrick Varale e si rivede anche Paolo Raviglione, che avrà Alessandro Rappoldi a dettargli le note. Immancabile, all'ana anche Giacomo Domenighini con Jenny Maddalozzo ad affiancarlo, seguito da Francesco Grassi alla ricerca di un buon risultato sulle strade amiche. Si prosegue con Dennis Lettei e Daniela Borella, seguiti da Giancarlo Nardi con Paola Costa alle note, e da Fabio Basso e Livio Mazza in gara con una gruppo A. Chiudono l'elenco Maurizio Ribaldone ed Enrico Zuccarini, rispettivamente affiancati da Guido Zanone e Daniele Greci. Questo è il calendario del trofeo. Si è iniziato a marzo con il Valli Aretine, poi ad aprile con il Costa Smeralda Storico e ancora con il Val Sugana. A fine maggio è stato il turno del Rally Campagnolo, ora appunto nel weekend che arriva il Rally Lana Storico, per poi passare a settembre con il Rally di Elba e a fine novembre con la Grande Corsa. Grazie a tutti.